Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Ascoltatemi, quanto mi volete dare affinché io ve lo consegni? Giuda, amico mio, con un bacio mi tradici. Taifa, perché lo hanno legato come un malfattore? È contro ogni regola! Ti chiedo adesso, nel nome del Signore, sei tu il figlio di Dio? Sì, io lo so. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo! Sono bene di andare! Fatemi passare! Giuda, se pensi di aver trito sangue di gente, questo è un tuo problema. Ora riprenditi al mondo, è te. Vatteli via! Via! Vatteli via! Che cosa sta succedendo al mio maestro? Cosa gli stanno facendo? Lui, lui non ha fatto nulla di male! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Mi avete consegnato quest'uomo come un criminale. Addirittura un soppilatore del popolo. Ebbene, io lo esaminavo. E non ho trovato in lui nessuna cosa. Pazzo! Che sono un pazzo, un pollo! Hai visto nel successo di Giovanni e Battista? Ma non hai paura! Vabbè! Non è giusto! Non è giusto! Lo sta vedendo! Perdonati loro! Perché non sanno quello che fanno! Grazie a tutti.